Io non voglio fare quello che vi dice, ve l'avevo detto, però a cazzo ve l'avevo detto, nel senso se seguite un po' di calcio e se ne capite un minimo, se avete visto mai giocare Aslani a pallone era chiaro come l'Inter quest'anno avrebbe dovuto far fare un po' di minutaggio ad Aslani e a mio avviso era comprensibile se la butto lì, anziché se la butto lì qualora magari eventualmente Brozovic non avesse mai avuto problemi per tutto l'anno tu facevi fatica a trovare spazio al mediano, se non sbaglio albanese, facevi parecchia fatica e vabbè ci stava, era più che comprensibile, era più che sensato, va bene, va bene, ok Brozovic è stato tutto l'anno fuori, tu hai preferito reinventare Cialanoglu in un ruolo completamente diverso abbassando di fatto poi Mkhitaryan a mezzala, anche se poi la mezzala la poteva fare perché la faceva anche a Roma ma facendo giocare appunto a Cialanoglu in un ruolo che non lo rappresentava, che ha fatto egregiamente piuttosto che far giocare Aslani, questo è un grave problema a mio avviso dell'idea di calcio che ha Simone Inzaghi perché poi voi direte, vabbè siccome lo critichi sempre anche quando non c'è bisogno no no, io faccio delle analisi, cioè questo è il mio lavoro, io faccio delle analisi e mi fermo qua poi l'analisi può essere sensata o meno, l'analisi può essere condivisa e condivisibile o meno io faccio delle analisi, oggi il gol dell'1-0, il gol che sblocca la partita, il gol che mette l'Inter in condizione di poter vincere eventualmente la partita, parte dai piedi di Aslani poi sì, il gol lo va a realizzare, scusate, Gosens, assolutamente sì io questo non lo metto in dubbio, io su questo non ho nessun dubbio in merito però comunque parte dai piedi di Aslani, un giocatore che Inzaghi non ha mai avuto il coraggio perché quello è un coraggio, qui si parla di coraggio, di valorizzare perché se tu quando, tu hai preso Aslani per sostituire Brozovic hai detto, manca il vice Brozovic, sono tre anni che all'Inter manca il vice Brozovic hai avuto il coraggio in fase di mercato, questo non ce l'ha avuto probabilmente Inzaghi ma chi ha fatto il calcio mercato, quindi non so se Marotta, se Ausilio, se chi per loro devi andare a prendere Aslani e quindi di credere in un giovane con un valore di prospettiva piuttosto alto, piuttosto impattante e quindi io sono stato il primo a dire cavolo, gran colpo e grande mossa perché comunque non era da tutti non era assolutamente scontato che l'Inter avrebbe fatto questa mossa poi però ti inizia il campionato, poi però ti parte la stagione e quando tu hai problemi che hai avuto anche negli anni precedenti perché spesso, forse negli anni precedenti più che per infortunio, per stanchezza Brozovic le giocava tutte, all'Inter si chiedeva un vice Brozo un giocatore che potesse occupare magari in un modo, non dico uguale perché poi il Brozovic dello scuetto di due anni fa era uno dei migliori registi d'Europa probabilmente, però insomma uno che sapesse almeno tamponare gli si chiedeva quello e visto che tu avevi preso Aslani devi farlo giocare l'Inter Aslani non l'ha mai fatto giocare, lo vediamo oggi che è in quel frangente protagonista ma chissà a che punto sarebbe se avesse giocato sempre per l'Inter quest'anno e poi il gol di Gosens, il gol di Gosens al di là del gol di Gosens che poi insomma dà un valore a quello che diciamo oggi, dà un valore a quello di cui parliamo oggi, di Robin Gosens si parla anche perché secondo me è l'Inter che lo sta valorizzando male, ora io a sinistra a Roma c'ho Spinazzola e Zaleski quindi trovare spazio anche per Gosens mi sarebbe abbastanza difficile ma io credo che Gosens sia un calciatore che farebbe comodo a tutti io penso, l'ho detto forse già in un video precedente, lo ripeto anche in questo video che se mi diceste, Sik, prenderesti un esterno sinistro per l'Inter nel mercato io direi Gosens, cioè lui è praticamente l'esatto esterno sinistro l'esatto quinto di centrocampo di cui l'Inter ha bisogno eppure un po' per l'esplosione di Di Marco che chiaramente ha esploso ma che gli vuoi dire, ma vogliamo andare a lamentarci del fatto che ti ha esploso tra le mani un calciatore che prima non giocava o che giocava come braccetto di sinistra vice di Alessandro Bastoni, non possiamo farlo però poi se andiamo un attimo a fare la stesura come se andiamo a stendere la pizza l'impasto sulla teglia, andiamo ad analizzare un po' tutto quello che va analizzato è chiaro come anche Gosens, l'Inter ci ha creduto molto poco ci ha creduto molto poco rispetto a quanto avrebbe potuto crederci ero curioso di vedere la risposta nell'atteggiamento dei Nerazzurri ero curioso perché comunque l'Inter veniva tre giorni fa da una partita difficile e cioè quella contro la Juventus che è finita in un modo ancora più difficile con tutte le risse, i cazzi, i mazzi io ve ne ho parlato ampiamente tra l'altro sono scordato di iscrivervi a questo canale se non l'avete fatto il 50% di voi che mi segue insomma non è iscritto e poi seguirmi anche su Instagram simonesicolf-official perché a uno di voi il primo di maggio vi regalo ad uno di voi regalerò la maglia della propria squadra del cuore o qualunque maglia voi vogliate però dovete seguirmi quindi mi raccomando seguitemi in questo momento detto questo vi stavo dicendo ve ne ho parlato, è stata un po' una vergogna come è andata tra Inter e Juve cioè magari in quel frangente la semifinale ed era nonché l'ultima, la penultima perché l'ultima sarà il ritorno partita di livello della Coppa Italia vista all'estero chiaramente perché la partita più importante sarà la finalissima e ci sarà la Fiorentina ma dubito che all'estero abbiano visto Fiorentina-Gremonese e dubito che all'estero un Fiorentina-Ju un Fiorentina-Inter in finale tirerà più di un Inter-Ju ve lo so che voi direte siccome che stai dicendo, quella lì è la finale sicuramente è più importante la finale che la semifinale se parliamo di calcio però poi se andiamo a parlare invece anche di un impatto mediatico all'estero chiaramente lo penso, lo pensiate anche voi andiamo a prendere ad esempio Barcellona-Real di tre giorni fa quella lì se la sono vista tutti e magari eventualmente una finale una finale se la vedrebbero meno perché non è Barcellona-Real Madrid all'estero quindi è un concetto che se no me ci sta dovevano fare una figura sicuramente migliore a livello di come posso dire hanno fatto una figura di merda dai davanti a tutti davanti al mondo tutto quel casino quel macello lì è una figuraccia e non è che lo dico perché sono romanista e quella è Inter-Ju lo dico anche quando succede per la Roma quella è una gran figuraccia però al di là di questo l'Inter doveva rispondere sul campo la risposta l'Inter la doveva dare sul campo e la partita al di là poi del del fatto che la Salernitana ritorna in partita io mi aspettavo che la Salernitana segnasse la Salernitana ritorna in partita soprattutto con la traversa di Boulaye Dia che è il calciatore più pericoloso dei Granata quest'anno io pensavo a settembre che Boulaye Dia facesse il devasto lo consigliava a tutti al fantacalcio però dicevo attenzione perché anche Piontek soprattutto con Boulaye Dia di fianco quindi un attacco a due potrebbe fare il devasto più Boulaye Dia in realtà in questa stagione che Christophe Piontek però comunque la traversa che spacca Boulaye Dia è una traversa che rischia in quel frangente di mandare un po' nei cavoli nei casini l'Inter un Inter che in realtà merita più volte il raddoppio perché dopo l'1-0 c'è un'occasione in cui i Nerazzurri prendono un palo mi pare con Barella poi nel primo tempo c'è un miracolo non ricordo su che giocatore ma di Ochoa poi nel secondo tempo c'è una tripla occasione una tripla occasione della dell'Inter che la palla non la butta dentro praticamente manco per sbaglio e tiri e tiri e batti e ribatti e rimpalli e cazzi e mazzi e quindi la partita resta in bilico questo probabilmente prima del pareggio è l'errore più grande che l'Inter fa e cioè non ammazzare la partita e io questo sentore ce l'avevo questa paura ce l'avevo io prima della gara avevo consigliato come risultato entrambe le squadre segnano perché ho detto la Salernitana nonostante sia quasi salva è una squadra che è un po' infame magari il golletto lì della pizza magari la butta dentro magari la Salernitana è un po' infame e quindi a mio avviso questa possibilità ci poteva stare e io ero lì che guardavo con grande attenzione quello che potesse accadere fino alla fine perché poi non dimentichiamoci che la Salernitana è praticamente salva cioè gli manca veramente poco alla Salernitana per essere salva ma veramente poco secondo me anche visto l'andamento delle altre squadre l'Inter invece deve lottare fino all'ultimo secondo per provare a prendere la Champions League e io non so visto l'andamento se ce la farà l'Inter una la vince una la perde una la pareggia una la vince e Milano uguale la Roma uguale la Juve uguale cioè è un macello ragazzi questo campionato questa Serie A è un macello e alla fine guarda tu il destino il pareggio arriva e arriva proprio sì dalla partenza l'assist di Bulaiedia ma da quello che non ti aspetteresti mai ovvero Antonio Candreva l'ex della partita l'uomo della provvidenza l'uomo che permetta alla Salernitana di riprendere un Inter che forse in quel momento un po' già se la sentiva sua ok la ti ripeto la traversa di Bulaiedia ma un po' già se la sentiva sua e invece Candreva fa un punto che dire oro in ottica salvezza è poco ma soprattutto fate attenzione perché perché adesso la Roma dovrà andare a Torino ci sarà la Lazio che può allungare sull'Inter ci sarà il Milan che può allungare sull'Inter la Roma appunto che va a Torino può staccare l'Inter c'è l'Atalanta che può accorciare o comunque può raggiungere Laura non ho davanti la classe cioè adesso ragazzi è un macello adesso è oggettivamente un macello quello che succederà da adesso alla fine di questa giornata sarà un macello considerando poi che mancano nove partite e che può veramente tutto succedere l'errore più grande dell'Inter è stato quello di non a parte quello che avevo detto inizio partita quindi Aslani quello e quell'altro di non ammazzare la partita era chiaro era chiaro che se tu non ammazzi la partita contro una squadra che sa giocare a pallone perché comunque poi alla fine qualcosa fa queste cose possono possono succedere e non devono e non devono succedere questa è una cosa fondamentale che probabilmente Inzaghi ancora non ha capito era un Inter che pareggiava poco molto poco molto 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 poco ma è un Inter che adesso deve mettere a riferto un pareggio che probabilmente avrebbe volentierissimo evitato di fare e non può stare tranquilla perché si mette davanti allo schermo perché si mette a guardare le altre e perché deve stare attenta a qualunque qualunque risultato facciano le altre quest'anno la lotta champions è così quest'anno tu non scappi mai quest'anno tu non hai mai la possibilità di dire io sto tranquillo tu quest'anno quella possibilità lì non ce l'hai e a mio avviso non c'è non c'è veramente niente di diverso da questo da poter fare e allora adesso godiamoci la prossima giornata di campionato grazie a tutti